E' un pari che sa di beffa quello che il Mazzara ha accolto al Valentino Mazzola di San Cataldo contro il Serra di Falco. Un risultato che, per come è avvenuto, lascia l'amaro in bocca alla squadra allenata da Mr. Brucculeri, che dopo aver condotto le operazioni per lunghi tratti, trovando il vantaggio per ben due volte, vede svanire tutto a causa di discutibili decisioni arbitrali. Prima con un penalty fischiato 30 secondi dopo il fallo avvenuto, poi, ad un passo dal novantesimo, una punizione molto contestata che veniva trasformata dall'ex Favarotta. Due punti persi che avrebbero dato respiro alla classifica dei gialloblu, in vista dell'impegno sulla carta abbordabile di domenica prossima contro il fanalino di coda San Sebastiano, in ottica del quale la squadra è intanto tornata ad allenarsi. A disposizione del tecnico non c'era il portiere Franco Iacono, a letto con la febbre. Presente invece il difensore Catello Porzio, che dichiara di sentirsi in crescita così come tutta la squadra. È successo che è mancata forse un pizzico di fortuna, perché io il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Questa è una trasferta delicata, come tutti sappiamo. Non era facile andare a fare il risultato là. Torniamo con un pareggio che a noi penso ci torna utile. Siete migliorati sul piano del gioco rispetto all'inizio della stagione e se tu per primo sei fiducioso su una possibile salvezza diretta, visto che comunque anche contro il Marsala ho visto una squadra molto determinata. Sì, guarda, ti ripeto, come ho detto prima, il bicchiere lo vediamo mezzo pieno. Lavoriamo ogni settimana per migliorare sempre di più. Stiamo ottenendo risultati perché, come puoi vedere, sono quattro partite che portiamo sempre qualcosa a casa. Io credo che dobbiamo solo continuare su questa striscia positiva, perché siamo tutti fiduciosi, anche i miei amici di squadra. Non ci resta che lavorare. Siamo in un ambiente sereno, dove ci permettono di lavorare con molta tranquillità e quindi penso che il nostro futuro sia roseo. Per quanto riguarda la prossima partita, non sembra un avversario insormontabile il San Sebastiano oppure c'è da non fidarsi? No, sempre. Ogni partita ha una storia a sé. Sicuramente sarebbe da ipocriti dire che sia una partita difficile, ma comunque la dobbiamo prendere con il piglio giusto, come tutte le partite che abbiamo affrontato finora. Cerchiamo di portare questi risultati a casa e poi andiamo a vedere dopo la classifica come si mette. Speriamo bene.